Il prossimo anno pastorale sarà dedicato all'ascolto del grido della città. La città è un organismo vivo, vivente, dove ci sono delle realtà bellissime e nello stesso tempo dove ci sono delle realtà che gridano. Dio ascolta il grido del suo popolo e alla sua comunità cristiana dice di allargare gli occhi, di allargare le orecchie, di allargare il cuore per cogliere questo grido che sale fino a lui e che talvolta noi comunità cristiana non cogliamo. La nomina a vescovo delegato di una serie di settori della pastorale della Chiesa è motivata dal fatto che si vuole cercare di ottimizzare la capacità di ascolto della Chiesa di Roma. Carità nelle sue mille forme, migranti, rom, diaconato, la cooperazione missionaria della comunità cristiana di Roma. Questi cinque delega che sono state date a uno dei vescovi ossidiari nascono dal desiderio di coordinare la vita della comunità cristiana in vista dell'ascolto della città e attraverso la cooperazione missionaria della Chiesa in fondo il grido del mondo intero. Allora chiediamo a tutti di collaborare perché questo nostro cammino diocesano possa essere arricchito da questa esperienza di ascolto.